I sapori e i saperi e aretini sono tornati in Piazza Zucchi con le bancarelle di prodotti a chilometro zero o comunque della provincia aretina. A meno di un mese dalla sua ripresa dopo lo stop invernale, il bilancio è infatti positivo. Il mercato settimanale si conferma sempre più un punto di riferimento per l'intero quartiere di Saione. Con la primavera abbiamo di nuovo tutti i martedì mattina la presenza dei banchi qui in Piazza Zucchi. È un mercato a Coutiniamo, è stato importante ripartire perché comunque è un presidio, è comunque un'occasione per acquistare sotto casa e per conoscere i prodotti del territorio. Presente questa mattina assieme ai dirigenti di Confesercenti, CIE e Confagricoltura, anche l'assessore al commercio Marcello Comanducci. Le bancarelle di Piazza Zucchi sono infatti le prime ad aver beneficiato dell'esenzione del pagamento del suolo pubblico. Un'agevolazione voluta dall'amministrazione comunale che prevede uno sgravio per tutte le manifestazioni, eventi e attività commerciali a carattere temporaneo nell'area di Saione. Un'iniziativa volta a combattere il degrado e rianimare il quartiere. Siamo convinti che per riqualificare un'area come questa di Saione che ha grande bisogno, la parte comunque commerciale è importantissima. Perché è un presidio, la gente comunque si muove e riscopre anche i mercati come una volta. Quindi abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi. Quindi questo è il mercato, è il primo che soffrisce di questa nuova modifica che abbiamo fatto al regolamento del suolo pubblico. Quindi in tutta l'area di Saione, proprio per la necessità che ha questa zona di ritornare ai livelli di una volta, non pagherà suolo pubblico. Quindi per l'amministrazione comunale è una piccola mancata in entrata, però secondo noi è un importantissimo lavoro per la sicurezza e per il commercio.